Dei momenti sono allegra, dei momenti non lo sono, però credo di avere una natura abbastanza giocarellona. Sono davvero molti i punti di forza di Isabella Rossellini, premia la carriera alla festa di Roma, ieri modella, poi tanto cinema, oggi regista di corti originali e provocatori, e persino inedita nel ruolo di nonna nel film La Chimera di Alice Rohrbacher, una passione per il grande schermo praticamente infinita. Mio nonno ha costruito il cinema Barberini a Roma, che ancora è un cinema importante, e mio nonno paterno, Eustace Bergman, era un fotografo, quindi la fotografia al cinema è sempre stato parte del mio DNA. Mi è sempre piaciuto e vedo tanti film sempre, ancora adesso tanti di più perché con lo streaming è più facile accederli. Quando ero piccola dovevo aspettare le retrospettive di un museo o la televisione per vedere i film di mio padre o di mia madre, quelli che avevano fatto prima della mia nascita. Invece adesso è tutto disponibile, quindi io sono felice. E il cinema ti fa entrare in un altro mondo, ti fa capire tante storie, tante emozioni, tante culture diverse. Ma per Isabella Rossellini la bellezza anche oggi cos'è? La definisco, così mi includo, la definisco come creatività, come l'espressione, cioè il vestirsi è anche una maniera di esprimersi, come la lingua. E quello che esprimiamo, se riusciamo ad esprimere attraverso il trucco, i vestiti, secondo me è anche il simbolo dell'eleganza, quello di vedere la psicologia di una persona, vedere come la persona si vuole presentare. Grazie. Grazie.